buongiorno ragazzi mi raccomando mi raccomando arriviamo a diecimila iscritti iscrivetevi al canale tutto gratis ed attivate la campanellina condividete il link del canale con i vostri amici interisti gruppi whatsapp telegram ditegli di cliccare su iscriviti che è gratis è gratis in questo canale non si paga nulla non ti arrivano fatture non vengono richiesti prodotti tipici come fa il reverendo qui è tutto gratis lo capisci qui è tutto gratis è una community gratis per gli interisti un canale gratis per gli interisti per parlare non si paga per ascoltare non si paga non si spende nulla iscriviti al canale ed attiva la campanellina io vi volevo eh portare eh a ragionare su un'operazione che non è assolutissimamente da fondo speculativo eh l'operazione del rinnovo di Lautaro Martinez non è assolutissimamente un'operazione di un fondo speculativo che ha pianificato una permanenza triennale tanto meno quinquennale come ti sta dicendo il reverendo nelle sue messe mattutine di tre interrotte minuti perché un fondo speculativo che mette giù un piano triennale quinquennale con una squadra di calcio la prima cosa che la fa è quella di mettere un tetto salariare quindi mi dite qual è il nostro tetto salariare dare gli ingaggi tipo me eh quelli come quelli del Real Madrid perché mi sembra che Cross è uno dei più pagati e prende dodici tredici se non sbaglio non esiste un tetto salariare cosa succederà ora con gli altri giocatori che potrebbero bussare alla porta per un rinnovo rinnova barella nove milioni se li merita per l'amor di Dio nessuno ti dice il contrario ma vedi che poi a ruota quando te dai dieci milioni puliti perché sono dieci milioni puliti più uno di bonus a Lautaro eh i top dietro ti vengono a bussare lo stesso eh Tuanham nell'ultima apparizione del cinese ovvero sia una live Instagram pensate come eravamo messi noi presidente in live su Instagram con i giocatori e l'ultima apparizione Turam e Cialanoglu lo scuzzicano gli dicano ascolta Ricciolino si te non ci hai pagato nulla ci hai preso a zero ce lo vuoi fare un regalo e anche quello ti fa capire quindi operazione mastodontica di Optri non è un'operazione assolutissimamente di un fondo speculativo non sistemi assolutissimamente i conti così eh facendo dando questi ingaggi ai faraoni ci vedremo cosa c'è dietro la favola che Optri deve vendere dopo diciotto mesi perché gli conviene penso che sia eh già stata spiegata eh il perché non abbia nessun senso e quindi vedremo un attimino cosa ci sono dietro cosa ci c'è dietro queste operazioni se ci sarà qualcuno dietro come pensiamo noi perché l'Inter passerà di mano ai sauditi se avesse avuto l'intenzione di rimanere tre anni io non ti dico avrebbe venduto subito Lautaro ma avrebbe fatto un grande salificio nonostante questo io confermo quello che dicevo anche con Alessandro G in live un mesetto fa secondo me eh Optri anche con un'altra con una nuova proprietà subito al comando una cessione eh serve vediamo cosa succede però questo è un segnale forte ragazzi ingaggi a Lautaro Martinez e a Barella sono segnali forti ma gli hanno rinnovato per venderlo ma non penso proprio ma non guarda ma non penso proprio non penso che sia paragonabile a quello fece Bremer con il Torino ma non penso proprio poi ragazzi c'è una bella notizia quando Parrucca che Conte andò via dall'Inter io dissi nel mio piccolo la tifoso la poltrona come voi io sono un tifoso non sono uno youtuber io sono un tifoso un semplice tifoso dell'Inter quando Parrucca andò via dall'Inter io dissi questo per lui sarà il suo ultimo top club e infatti non mi sembra che i presidenti si siano eh nel frattempo c'ho il gatto e salta non vi spaventate non mi sembra che il presidente i presidenti dei top club europei si siano accapigliati per aggiudicarsi Antonio Conte detto Parrucca dove è finito è finito al Napoli dove ha una squadra la squadra del Napoli ad oggi è composta in maniera totalmente diversa per come vede il calcio lui che lui vede ancora un calcio anni ottanta fatto solo di corsa grinta e Vietnam Vietnam a centrocampo battaglia a centrocampo ripartenze e quello il calcio di Antonio Conte un calcio revival anni ottanta e ed è una squadra quella del Napoli composta prettamente da attaccanti esterni cioè il punto di forza di Napoli eh le Kvara, Gonghe, Gonghe, Politano cioè è una squadra forte sugli attaccanti esterni cosa che a lui non servono perché io mi ricordo che l'unica volta che provò a giocare eh con un tre quattro tre all'Inter l'Inter fece ridere addirittura se non sbaglio rimontò agli ultimi minuti contro il Verona quindi la vedo un'avventura molto difficile vedremo se riuscirà a riportarsi Lukaku perché tanto lui solo quello sa fare a riportarsi Lukaku ma il signor Conte anche qualora riuscisse a riportarsi Lukaku eh deve deve far conto di un di determinati fattori ovvero ovvero sia quali sono sono che può riuscire che si riporta Lukaku di quattro cinque anni più vecchio di venti o trenta chili in più senza Pintus soprattutto senza Brozovic senza Kimi che gli portava sulla palla e senza tante altre cose che c'erano all'Inter che hanno fatto splendere la stella Lukaku di otto tu vai veni qua eh che hanno fatto spendere splendere la stella Lukaku quindi un presidente dell'Aurentis che si incassa 20 milioni ne spende 10 e soprattutto un presidente non un morale un presidente con un caratteraccio che se le cose che se le cose le vanno male scarica la colpa sull'allenatore l'allenatore a sua volta è un personaggio e se le cose vanno male non si prende mai le proprie responsabilità e scarica le colpe sull'allenatore e sul presidente e sulla società quindi ne vedremo delle belle per me il conte dura dura sei mesi forse il matrimonio durerà sei mesi perché come la vedo io poi dopo cominceranno a esserci i primi scricchioli soprattutto qualora non arrivassero risultati lo vedo proprio un binomio destinato a non durare quello conte Napoli vedremo poi il campo cosa dirà ragazzi ah ecco qua vi rimetto se l'avete chiesto me l'avete chiesto eccolo qua vi rimetto il code da scansionare per far parte della chat degli esonerati dove si rientra facilmente con con il cellulare scansionate ma si esce altrettanto velocemente se non si rispettano determinati parametri quindi abbiamo deciso per un periodo di riapirla a tutti questa chat whatsapp dove si parla di calcio 20 ore al giorno è una chat bellissima composta da circa 500 persone però per rimanere dentro servono determinati comportamenti e soprattutto ci sono determinati parametri da rispettare io vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e magari ci becchiamo più tardi ciao inter